Ciao, ti ricordi qualche mese fa le Sticks and Pad Nights, quell'iniziativa che ha avuto un grande successo? Mi riferisco alle dirette Facebook durante le quali lavoravamo su un workout che si chiamava appunto Two Hours Workout Livello 2. A causa della velocità di quegli esercizi ho avuto una massiccia richiesta per realizzare un livello 1, un po' più semplice, un po' più easy, ok? E allora eccolo qua, si chiama Two Hours Workout Livello 1. Se tu acquisti questo workout che costa veramente una sciocchezza, sono 15 dollari l'equivalente di 12 euro, entreremo in contatto diretto attraverso la mail e te lo dico perché quest'anno le dirette le faremo con una piattaforma diversa. E anche se non hai Facebook, YouTube, Instagram, se non hai nessun social potrai partecipare lo stesso perché useremo una piattaforma per fare questi incontri in maniera diversa, nuova, spettacolare perché in realtà tu potrai partecipare attivamente alle dirette. Se ti ricordi quella di mesi fa su Facebook, praticamente tu vedevi me che mi ammazzava a fare gli esercizi ma tu dall'altra parte magari stavi sul divano con la birra perché io non ti vedevo, ok? E per intervenire dovevi scrivere dei commenti che a volte si vedono, a volte no. Invece ho scovato questa piattaforma fantastica che non passa attraverso Facebook, è autonoma e tu puoi partecipare entrando nella diretta, facendoti vedere usando la tua telecamera, il tuo microfono, il tuo computer e potendo intervenire parlando con me se hai delle domande da fare puoi farmele a voce e tutti potranno vedere le tue domande e magari intervenire. È come se fossimo in un'aula dove tutti sono presenti però in realtà ognuno è a casa sua, ok? È una virtual clinic, si chiamano webinar in gergo. Comunque per maggiori informazioni aspetta altri video che pubblicherò fra qualche giorno ma adesso la cosa più importante da fare è che tu acquisti questo Two Hours Workout livello 1, ti ripeto il prezzo è veramente un'inezia, sono circa 12 euro, è prezzato in dollari per via di Paypal ma non preoccuparti, qualunque carta di credito può pagare in dollari. Tu acquisti questo pacchettino di 13 unit, ogni settimana ti viene rilasciata quella nuova e siccome per iscriverti dovrai lasciarmi la tua mail, io ti comunicherò quando inizieremo ma giorni. Prima di lasciarti vorrei ricordarti che tutto ciò funzionerà anche su mobile, c'è un'app apposita che si scaricherà e installerà da sola perché quando tu cliccherai sul link che io ti manderò nella mail per partecipare a queste dirette, lui ti chiederà se lo fai da mobile, se vuoi scaricare l'app o se vuoi passare dal browser. Se vuoi scaricare l'app potrai partecipare alla diretta attraverso il tuo device mobile, se invece vuoi farlo attraverso il computer lui userà semplicemente il tuo browser Chrome, Safari, ti chiederà il permesso di usare la tua telecamera e il tuo microfono e a quel punto tu sarai dentro questa nuova aula dove faremo in diretta questi esercizi gratis, gratis, l'unica spesa che devi fare è prendere questo Two Hours Workout livello 1, ci vediamo quindi in Two Hours Workout livello 1 e alle Sticks and Pad Nights livello 1. Tieni d'occhio la mail. Ah, dimenticavo, scusami, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente e questo è uno strumento super intelligente, non vedo l'ora di cominciare e di incontrarti, ci vediamo fra qualche giorno, ciao! Grazie a tutti!